This is the radio, this is the music, this is the radio house music, yeah! Everybody sing a song! Allora stasera ragazzi, stasera ragazzi, ne abbiamo 23 novembre, è venerdì sera, è la serata di House in the House, il link arriverà a brevissimo ragazzi, partiamo con la sigla storica di House in the House, Ladybug, un remix di Larry, iniziamo bene, di Larry Levan, che poi ho a mia volta, ho remixato, ho cercato di farci qualcosa perché tanto c'è Larry Levan, stasera avremo in console tre grandissimi DJ, il nostro ormai conclamato re della di Paus, Donnie Omty, poi l'uomo che tutti ormai hanno definito Technoman, Grace, e anche stasera a grande sorpresa in console ci sarà lui, the king of the house music, colui che tutto pole e tutto pole, Mr. Stefano D'Andrea, la voce è di Edoardo Serra, la regia audio è di Marco Giovacchini, la regia video è di Paolo Bruno, buon ascolto! Oh yeah! I love her baby, I love her baby! I love her baby! Yeah, you can call me Barry Beans! That's bad! That's bad! That's bad! That's bad! You're good on that bad! 24 hours a day, I'll give you love, just let me be your ladybug, baby! 24 hours a day, love you, and kiss you, and kiss you, and hug you, baby! Love you, and kiss you, and kiss you, and hug you! Nonno, e godذا... quadrice pos, pos! No, it's a Mercedes-B. All right, is kiss you, baby? Don't wanna drink, baby? Do I got to have a drink of Nectar? Does-that all? A Nectar and tonic, doesn't make mink, do... Sì, sì, sì. Sing, sing Nine kilometers Sing him Buzz, buzz 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 Grazie a tutti. 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 Yeah, 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 siamo sempre emozionati ragazzi perché comunque la seconda puntata che trasmettiamo dallo studio, anche oggi abbiamo lavorato in tutta la settimana allo sviluppo di questo nuovo grande progetto nato da una, un'idea, definiamola così, mia, di Stefano, da Andrea, ad oggi siamo, chi se lo sarebbe aspettato? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Donnie Amtì, che stasera suonerà a 4 deck con due Technics 1200 e due CDJ della Pioneer, quindi uno spettacolo veramente unico. Poi avremo colui che tutto vuole, il mio socio, il mio maestro, ma soprattutto il mio grande amico, messo a Stefano D'Andrea e non poteva mancare lui, Technoman, Grace. Intanto il disco che gira ora, per chi non lo sapesse, è un disco dei Purple Disco Machine, che è un remix di un disco di Stefano D'Andrea, io ce l'ho l'originale. Questa è Radio House Music. Ah già, mi dimenticavo di dire una cosa importante. Stasera, per la prima volta, Radio House Music trasmette con una frequenza di 10-100-1000 gigabit al secondo e con grande piacere possiamo dire che siamo solo due emittenti radiofomani che in Italia e che trasmettiamo con una velocità di frequenza così elevata. Questa è Radio House Music e questa è House in the House. Questa è Radio House Music. Questa è Radio House Music. Scusate se interroppo, ma mi stanno dicendo che forse non è arrivato il link su Whatsapp. Se non è arrivato fatecelo sapere anche tramite la chat. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. 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 apriamo la console allora ci siamo ragazzi l'apertura è stata ottimale complimenti a tutti i tecnici che lavorano per per far sì che il suono esca bene il segnale esca bene e che la nostra musica e la musica soprattutto dei nostri DJ e dei nostri artisti venga trasmessa nel miglior modo possibile ladies and gentlemen monsieur and madame everybody sing un song Duba Duba gira i dischi il console il mio grande amico Donny Omti this is the radio this is the music this is the radio house music stasera Donny Omti ricordiamo suonerà quattro deck con due tecnici mille due più due cdj pioneer eventualmente potete vedere delle foto che verranno pubblicate sulla pagina facebook radiosmusic.it ma quando sarai bella Simo a a a a a Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.